Partiamo con due battute simpatiche, la prima è il Presidente, l'hai sentita in diretta, la seconda Zeman ha detto Cuppone bravo per i due gol, no, ne doveva fare quattro. Sì, io sono contento che il mister chiede tanto su di me, quindi cerco di impegnarmi e di migliorare durante la settimana per fare quello che chiede. E questo è il tuo ruolo, dai, numero nove. Sì, mi piace tanto fare la prima punta, ovviamente se devo fare altri ruoli mi metto sempre a disposizione. Allì ti stanno guardando Tomassini e Vergani, che in teoria sono i due attaccanti che tirano davanti, in teoria, cosa gli dici? Non dico niente, dico soltanto che dobbiamo migliorare tutti quanti, dobbiamo impegnarci durante la settimana perché è una stagione lunga e serviamo tutti alla squadra. Adesso ce lo puoi dire, quanto è stato difficile dire di no ad alcune offerte importanti? No, l'idea mia e della società è sempre stata questa, quindi... No, ma quello lo sappiamo, ma quanto è stato difficile perché qualcuno era veramente importante? No, quando hai voglia di far bene e hai obiettivi in testa non sono difficili le offerte, quindi sono contento di essere rimasto, sono contento della fiducia che mi ha dato il mister, sono contento della fiducia della società, cerco soltanto di ripagarla durante il campionato. Mi dici una cosa prima di salutarti, hai fatto uno scatto al 93esimo, correvi di più del primo minuto, come fai? Come ho detto, cerco di ripagare veramente tutti, sono contento, mi metto sempre a disposizione, quindi anche perché è il mio modo di giocare, niente, spero di continuare così.